ciao a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nella canaria sky oggi andremo nel nether però prima di fare il nether dobbiamo fare un'altra cosa allora come avevo già detto ho fatto questo ho fatto i crucible facciamo così 1,2,3,4,5,6,7,8,9 questo lo cacciamo qua buchiamo qua sotto è il terzo allora 1,2,3 e buchiamo qua sotto facciamo così 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 allora deve arrivare qua non ce la facciamo va bene nessun problema prendiamo un lead e un din allora facciamo due lead e quattro din così facciamo i dead duct così e ora dovrebbe arrivare anche qua anche perchè perchè l'ho spostato il barrel da quale ho messo i quattro qua in modo che arriva da tutte le parti vedete arriva sia qua e sia qua adesso ci servono altri item duct allora facciamo una cosa adesso e se lo abbiamo quasi fatto allora ho fatto i fluid duct però qua sono diversi si fanno in questo modo invece del lead con l'hardened glass diventano i fluid duct trasparenti sono più belli da vedere e adesso la stessa cosa facciamo gli item duct prendiamo il vetro trasparente che una volta era qua uuu a voglia che ha fatto bravo prendiamo ah si comunque ci hanno fatto le padelle per andare nel nether cioè io già ce l'avevo se l'ha fatta Alessandro eccola vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua allora ma chi nasce facciamo così ma ti faccio vedere ma ti faccio vedere così 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 ah belli i tubi trasparenti così 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 poi facciamo così e qua non vuole eccola qua mettiamo l'uscita e dovrebbe partire però visto che non ha bisogno di servo se noi andiamo qua con una mano libera no serve lo stesso il servo perchè non partono vabbè ce lo mettiamo noi mi ricordavo che ne erano senza servo boh ah si l'ho messo nel coso dei macchinari guardiamo cazzo lo stacc vabbè siamo già preparati tutto eeef ok andiamo qua e ci mettiamo questo pneumatic servers ben installed gli mettiamo la resta in dolce bassa e gli mettiamo che devono uscire uno alla volta però siccome non sono già partiti allora sta fermo allora eeef allora oh musica arriva vedete entra la cobblestone e dovrebbe uscire la lava che dovrebbe entrare qui dentro ah gli mettiamo round robin in modo che va in tutti i crucible round robin è il colore arangione ok in modo che entra in tutti quanti fa un po' e un po' oh vedi è più bello che vedi la cobblestone che si muove nei tubi facciamo così si finisce la lava eh? si finisce la lava mo ti faccio vedere mo ti faccio vedere allora se noi mettiamo le leve qua ecco adesso parte 5 6 7 8 ne manca un altro poi ci metteremo tutti i servo qua perchè è brutto le leve sono brutte eccala non ha cacciato cosa è 1 a 9 e non è andata peggio non zecchio di lava peggio ecco allora lava le sa vieni qua che facciamo allora prendiamo un zecchio fatto oh qua mettiamo ossidiana però dobbiamo fare presto se no se la prende mettiamo ossidiana e la prendiamo noi la stiamo mettendo a lava ah spero appena si finisce cazzo ecco la stai prendendo tu? ah stavo attendendo io no la 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 stai prendendo l'ossidiana no che film sta facendo? ah boh scusa ma che mi fai fare? ma non ce l'abbiamo l'ossidiana ah mi sa che è andata nella cesta in questa cesta e vediamo ma noi ce l'abbiamo l'ossidiana quando abbiamo messo a pulverizzare l'ho messo qua dentro e 23 ne abbiamo ok no se non mi sbaglio è arrivata nella cesta giusto? eccola qua sta arrivando è nella cesta e quindi la leviamo il portale lo andiamo a fare su un'altra isola che è la isola? quella che vuoi rosso no viola 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 come un nether no viola l'hanno distrutto vabbè non va niente lo spazio c'è sempre allora io mi teletrasporto a te perché a me non funzionano i white point aspetta prima fammi appuggiare le cose aspetta e infatti c'è messo un nann eh si vedi l'acciarino l'acciarino una flint e una steel allora vabbè certo non ero massimo sui portali però una flint non ce l'ho l'arco una flint dov'è? dove l'hai messo la flint? ehm non puoi che tutti i chest c'è la flint qua allora qua dentro mi sa no mi sa che dove l'hai messo? ah è qua ok una flint e questo questo flint e steel mettiamo questo qua ma che me lo fottono io allora io ve lo dico andare nel nether è come dire ammazziamoci io te lo dico eh gioia portami un po' proseguire a tuo rischio e pericolo io questo lo rimango questo lo rimango qua sei pronto sei pronto aspetta che appoggio il piccone quale ci portiamo? io quello di allumite vabbè non va niente vabbè portati quello di allumite si e se dobbiamo rompere qualche materiale come fai? vabbè non ti preoccupare allora ma ce l'hai quello di allumite? allora aspetta eh piccone quello non abbiamo piccone ti porto quello di cactus eh solo questo abbiamo giovanni alexville ok qua dove l'hai fatto? ah qua allora ah ok si ma dopo comunque il pistallo è venuto no no si ma se lagga mo siamo a posto io te lo dico allora allora ah l'accetto devo appoggiare ce l'hai fatta una cesta in qualche parte? no l'appoggia qua allora ricordami ehm ok accendino l'ho portato l'ho portato te lo prendi oh allora accendiamo mettiamo il piccone su cosa questo non sapevo come si faceva ok adesso aspetta aspetta prima di fare così dobbiamo fare le fence fidati oppure ehm come facciamo? ce l'hai legno? legno si eh vai fai le fence attorno al portale perchè escono i mostri dopo e non son mostri normali fidati la range dove appoggiare mezzo cuore questo me li porto vai prima tu ti cedo l'onore dimmi com'è ora vuoi di crash la server crasha tutto aspetta salviamo prima mi sa che è già crashato mi sa che è già crashato no eh sta crashando però i big zombie non mi attaccano qua giusto? no guarda che sto avvenendo vieni vieni è tutto tranquillo qua giù madonna mia che spavento aia 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 alessa 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 iniziamo male aia diventa pipistarelo 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 mi uccide no 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 non manzarelo alessa ci muri mettet i pipistarelo innanzitutto oh no ma giuro mac Jeg conhecerla qua mettiti pipistarella e'andato nel mondo normale è entrato il pig zombie Lo dico Allora Meno male che c'è la moda del pipistrello Guarda queste cose Alessandro Vieni qua Vieni qua Quello che ti dicevo Vieni qua Mi vedi? No Vieni qua Guarda tutti i cosi dei Dei come si chiamano Hanno tutte le particelle Sono super forti Guarda quel cosa Guarda quante particelle Ha sto micro Sta miniatura qua Sì ma sono tutte nostre Sì E per questo ho detto Per questo ho detto Che andare Eh oramai L'hai picchiata Ma oramai ti fanno male Eh oramai Oramai uccido Perciò quando ti ho detto Che c'è il casino C'è il casino Eh volatela qua Il tempo che ti devo fare male Ti devo fare male Oh Murano Il server inizia Leggermente Alla gara Che hai fatto? Non ne abbiamo fatto Non caccia Alla big zone Sì ma sta È cresciato il server Vediamo Eh sì Mi sa che è cresciato L'hai cresciato Eccola Ok riavviamo Ok si è riavviato Siamo leggermente Nei guai E l'ho ammazzato io Oh no è sparito Non lo vedo io Oh che caccia Sono seguito Oddio Nether È il quarzo del nether Normale Vanilla Attento È Quel mostro brutto È vero Alessà I ragni del Alessà attende i ragni del nether Alessà attende Sono più avanti Attento Ma dove sei? Ma dove sei? Sì Sì Io voglio Amor Sono pig zombie Eh Gio Oh Allora Come mi fa? Come il quadrat Lo so Allora Alessà Allora C'è i pig zombie Che Langiano le pozioni Ma dove sei tu? Ci rincontri Vai Vai Vieni al portale Fai waypoint Portale M M Waypoint New waypoint Portale M Nether Nether Portale Nether Don't 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 Beh Fai un soscuro Questo Gio Eh Alessà Spera Piano piano Qua Allora Attendo a rompere i blocchi Non rompere niente Perché potrebbero scoppiare Cazzo pure Ma che fai Nostra Che zombe qua Hai le frecce Certo Me ne dai Io non ho 5 soldi Vieni sul portale No mi serve la morph Non ce l'ho Io manco uno Non ho preso Eh Eh no Sali Vieni sul portale Ma per chi Tra se Do 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 Eh Giù Stanno Tra se No Par Pec Zombie Do 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 Eh ma Stai Attendo Allora Vieni sul portale Ci So Già Eh vai Smo tutti Quanto Guarda Guarda Ma stu Bastard Ma te la voglio Affangula Gnani 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 Ti faccio Poi Gnani Ah 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 Alessana ci muoio Alessana ci muoio Mi bello è che ti brucia pure Ma perché non mi riesco a andare a parla Marete stu Bastard Oh Oh ho preso la morph Troppano le spade Che spade Inverse world Incantata Sharpness 2 Oh Madonna mia Beh Dai Allora Apriamo il libro della quest Apriamo il libro della quest Dobbiamo andare Dobbiamo andare Allora Tu scrivi l'in chat Così ce la ricordiamo Meno 149 Meno 149 60 185 Quindi Meno 149 Di qua Sì Aspè però Meno 149 Alessana diventiamo blaze Così ci vediamo Perché il pipistrello non si vede Aspè aspè Meno 149 60 Meno 149 Meno 149 Meno 149 60 Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia E' volatile però Meno 149 60 185 Meno 149 Aspetta fammi ammazzare sta cosa Aspetta mi teleporto da te TP Giovanni Alex Meno 150 Meno 150 siamo Che meno 189 Meno 149 Ah meno 149 60 185 Ma sicuro che Visited visited claim reward Abbiamo finito M vuoi poi e torna a casa Aspetta M Non si può tornare a casa Non ci possiamo detrasportare al portale Non ci possiamo detrasportare al portale Ah io pure è vero Prendi la glowstone Prendiamo qualche Si sto venendo al portale Ok ci sono No 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 Alessà ascolta Ma a me Prendilemo Almeno il nether quartz Perché ci dobbiamo finiziare le me E ci serve Eh vabbè Che scendro Lì nel topolino E' Roma Allora facciamo una cosa Prendiamo i materiali qua nel d'indore E ci vediamo fra poco Ok siamo usciti Non siamo usciti a prendere niente Perché ogni volta che rompevamo un blocco Come giusto avevo detto Eh Uscivano dei topolini Non si capisce Dei cosi strani E quindi Dopo che andravano nel portale Eh Non li abbiamo presi Allora adesso fammi tornare A casa Giallo Si Andiamo No aspetta Vai prima nel viola Che dobbiamo chiudere il portale Eh Possiamo Adesso lo chiudere Ok Quindi Per questo episodio è tutto Abbiamo finito Tutto Il capitolo Del learning to skyblock All quest completed Quindi per questo episodio è tutto Noi ci vediamo al prossimo